Ciao a tutti, cari amici di LB, amici della chat, quelli che stavano su YouTube, quelli che sono su YouTube iscritti spero ancora, abbiamo preso una decisione molto sofferta, almeno per quanto mi riguarda, molto sofferta perché c'è stato il lavoro di un anno dietro che ha portato all'apertura della chat, prima la diffusione, dopo i primi 200 utenti, poi 500, poi 600, poi improvvisamente siamo arrivati a 1000, superando anche la quota dei 1000, quindi non pensiate che per me e per gli altri ragazzi di Live Bianconera sia qualcosa del quale siamo contenti, soddisfatti e siamo felici di aver buttato nel cesso, se si può dire, il lavoro di un anno, perché l'abbiamo aperta praticamente a luglio dello scorso anno dopo aver comprato Ronaldo, ecco, i motivi che ci sono dietro questa scelta, anzitutto voglio dirvi che non è che la chat di Live Bianconera è morta per sempre, ne abbiamo già creata un'altra che stiamo provvedendo ad aggiustare, a far vedere come far funzionare, e molto semplicemente ragazzi si era perso un po' lo spirito che era di Live Bianconera, io mi prendo tutte le responsabilità di quanto è accaduto, nel senso che non è colpa solo degli utenti, è colpa anche dei moderatori e dei creatori, quindi mi ci metto dentro con tutte le scarpe, però, 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 se posso dirlo, negli ultimi tempi, anzitutto, vabbè, io, sapete già la mia idea sul caso Guardiola, Sarri, questa guerra tra giornalisti, il derby tra quello che ha detto la cosa giusta, quello che ha detto la cosa sbagliata, i tempi, le ricostruzioni, ecco, io non condividevo in generale questo clima di caccia alle streghe, per i giornalisti, perché non mi appassiona per niente, ma questa è una cosa mia, e la cosa che mi fa riflettere, che era, che praticamente è il motivo per il quale abbiamo chiuso la chat, è che non era più la chat di Live Bianconera, non era più la chat nel quale noi di LB, proponevamo un argomento, una discussione, un sondaggio, un'iniziativa alla quale poi la gente partecipava, non perché non c'era gente che non aveva voglia, ma semplicemente perché era diventato una sorta di angolo dei guru, chi conosce il web juventino conosce, sa di cosa sto parlando, più esteso, un angolo dei guru esteso a mille persone, 24 ore su 24, chiunque entrava dentro, chiazzava la gurata, anche se non faceva parte di Live Bianconera, e noi abbiamo aperto a tutti, cercando la buona fede di tutti per aprire uno spazio aperto, è, evidentemente siamo stati traditi dalle nostre stesse aspettative, e questo è quello che voglio dirvi, è, la discussione era, ma Tizio ha parlato? Ma Caio, cosa sta dicendo? Ma ci sono novità? Oppure, arriva Pep, lo dico io, arriva Sarri, lo dico io, arriva le 18, no, questo non mi andava più bene, a me personalmente e a tutti gli altri della chat redazionale di Live Bianconera, non andava più bene, era un atteggiamento che francamente trovavo e trovo rivoltante, quindi stiamo cercando di rifare una chat, di intendere, di metterci d'accordo, di mettere d'accordo le varie anime di Live Bianconera su dei punti sul quale costruire questa nuova chat, e niente, vi ripeto, mi dispiace molto, ma era pressoché inevitabile una conclusione di questo genere, perché il declino era tanto, e noi non stiamo andando in Live in questo periodo, ragazzi, e potremmo farlo tranquillamente, facendo del clickbaiting stupidissimo, scrivendo, sta arrivando Sarri, arriva ad ora, oppure sta arrivando Guardiola, arriva ad ora, ma la realtà è che noi non sappiamo nulla, capite? E preferiamo puntare da sempre sulla qualità rispetto alla quantità, non ci interessa il numero di iscritti, non ci interessa il numero delle views, non ci interessa il numero degli utenti in chat, non ci interessa nulla, puntiamo alla qualità, perché altrimenti io, ve lo dico sinceramente come la vivo io, se dovessi andare a dormire, andrei a dormire con l'idea di essermi preso in giro da solo, e io questa cosa qui non la voglio fare, mi dispiace, quindi vi aggiorneremo quando apriremo la nuova chat, nel frattempo l'account Twitter c'è ancora, c'è il canale YouTube, c'è il sito, quindi saprete tutto a tempo dovuto, non disperate.